Il mare dell'ignoranza inonda la terra intera, corrompe l'anima imprigionata dentro il corpo e le impedisce di poter gettare l'ancora nel porto della salvezza. Questa è una frase di René Guenot. E questo che sto dicendo è dedicato ai nostri imprenditori, a tutti i commercianti. Sull'economia è una cosa semplicissima. Se noi abbiamo un'entrata del flusso monetario e un'uscita di questo flusso monetario verso chi decide il flusso e che non si prende solo una decima ma si prende anche una settantesima, chiunque, senza dover fare dei corsi raffinati di economia, che cosa decide? Che non metto alcuna restrizione dove c'è l'entrata monetaria e le restrizioni, casomai, le metto dove ho l'uscita monetaria. È tutto molto semplice. Poi non lamentatevi se qualcuno vi dice anche buon fallimento.